Un punto d'incontro di piccole e grandi aziende, start-up per giovani professionisti e istituzioni uniti da una determinazione comune, trasformare radicalmente il panorama economico e sociale del Sud, ponendo il digitale e la sostenibilità al centro del cambiamento. In altre parole, Bari Capitale Digitale ABCD. Questo il titolo dell'evento, supportato tra le varie dall'Agenzia di Comunicazione e la content con cui il capoluogo pugliese si propone nella due giorni del 9 e del 10 giugno. Appuntamento allo spazio Miura, il tema scelto per questa edizione è talenti e tecnologie per un faro nel Mediterraneo inclusivo e sostenibile. E la stessa Bari, nell'ultimo periodo, è in forte richiesta e ascesa. Sfruttare il momento è importante, l'obiettivo è quello di rendere il capoluogo pugliese un punto di riferimento nel mezzogiorno, favorendo allo stesso tempo anche l'aumento dei posti di lavoro, con importanti opportunità per quanto riguarda i giovani. Evento che è stato inoltre supportato da Nicolo Andreula e dalla Diesel Calls Hunting.